Ciao, sono Tiziano De Tommaso, ideatore e fondatore di TennisWinnerGame.com, la piattaforma online numero uno in Italia per giocatori appassionati di tennis proprio come te. Oggi entreremo nello specifico del dritto e di come riuscire a giocare un dritto esplosivo con tanta velocità di braccio, avambraccio e di mano. Molti di voi mi hanno fatto tantissime domande riguardanti il dritto, si sentono la parte del braccio e dell'avambraccio molto contratta al momento dell'impatto e soprattutto sul finale. Questo che cosa procura? Procura una scarsa velocità di palla con pallina che termina o sulla rete oppure lenta sulla metà campo. Oggi sono qui per farti vedere un esercizio molto semplice che potrai mettere in pratica nei tuoi allenamenti sin da subito col tuo sparring nel tuo circolo tennis che ti farà aumentare 10 km all'ora la velocità del tuo dritto. È un esercizio molto semplice che parte appunto da una sensazione interna nel velocizzare l'avambraccio. Con questo semplice trucchetto, sperimentando appunto per 10 volte, per 10 ripetizioni, quello che ti dirò tra poco, vedrai come il tuo dritto andrà sin da subito in maniera molto più rapida e veloce. So che ti sembra quasi impossibile che il tuo dritto riesca ad accelerarsi in maniera così tanto rapida in sole 10 ripetizioni, ma se mi seguirai nei prossimi due minuti ti dimostrerò come aumentare la velocità del tuo dritto con questo semplice esercizio. Per riuscire ad accelerare il tuo dritto in maniera esplosiva hai bisogno semplicemente di questo esercizietto. Con i giocatori che vengono a lezione da me lo uso spesso ed è veramente un esercizio molto molto interessante, divertente e soprattutto efficace. Puoi applicarlo anche tu immediatamente all'interno del campo da tennis sin dalla prima ora dei tuoi allenamenti. Allora qui ho a disposizione due racchette uguali, solitamente se giochi e fai tornei sai che quando rompi le corde è sempre bene portarsi una coppia di racchette e quindi non farei fatica a trovare due racchette penso della stessa marca e della stessa misura e soprattutto della stessa grandezza di manico. Cosa facciamo? Innanzitutto sono tutti esercizi fatti senza impattare la palla. Non devi fare altro che metterti in posizione neutral, quindi con i piedi bene larghi e affiancato rispetto al campo, eseguire il tuo dritto con la tua impugnatura, col tuo grip, ma con due racchette in mano. Sentirai una forza di inerzia maggiore e di conseguenza il braccio ti tenderà ad andare meno, ma l'obiettivo è appunto quello di riuscire a sprigionare comunque tutta la tua velocità sulla pallina. Quindi preparazione, vado a colpire. Devi cercare di fare questo movimento con due racchette almeno per dieci volte consecutive. Sentirai la punta della racchetta che va via abbastanza rapida una volta che passi dalla fase di accelerazione a quella di impatto e di finale. Senti proprio la scioltezza di questo movimento perché la racchetta pesando 300 passagrammi in più, una volta che resisterai all'inerzia in fase di preparazione, dopo un po' il principio delle montagne russe, in fase di accelerazione, impatto e finale, la racchetta tenderà ad andare via da sola. Io adesso sto facendo un esempio con una western, possiamo farlo anche con una semi western, stessa cosa, non cambia nulla. Preparazione, carico gamba posteriore, impatto finale. Eastern, stessa cosa, non cambia nulla. Forse sulla eastern la presa della seconda racchetta la sentite un po' meno, quindi attenzione, ancora che vi scappa, ma si può fare tranquillamente. Dopo che hai provato con due racchette, non devi fare altro che appoggiarne una e simulare il colpo con una racchetta sola. Ovviamente la sensazione sarà di gran lunga migliore adesso perché tieni in mano una racchetta da 300 grammi e non da 600, quindi è proprio quella sensazione di leggerezza. Dopodiché non ti resta che colpire qualche palla al cesto, con la mano, anche come sto facendo io adesso, va benissimo, non ti serve giocare per provare questa frustate accelerazione di braccio e avambraccio. Mi sento, ne ho fatte solo due, mi sento già molto più sciolto e ti assicuro che non ho tirato nemmeno una pallina oggi in scambio, anche perché sono da solo in questo campo, quindi solamente avendo fatto dieci ripetizioni a vuoto con due racchette e dieci con una racchetta sentendo la sensazione di frustata del dritto sulla pallina, mi sono partiti due dritti che sono due missili, sono stati assolutamente due schegge. Grazie per aver visto questo video, se il video di oggi ti è piaciuto ti invito a mettere un mi piace alla pagina Facebook Tennis Winner Game e a commentare il post sull'accelerazione di avambraccio nel tuo dritto qua sotto, ti risponderò in maniera abbastanza rapida. Ti invito inoltre a visitare il sito internet www.tenniswinnergame.com dove io e il mio staff stiamo in continuazione aggiornando le varie sezioni per poter migliorare te ed il tuo tennis. Io ti ringrazio, ti rimando alla prossima video lezione gratuita di domani sera e come sempre play tennis with passion. Ciao!